Mi chiamo Francesca Lainè e sono un pilota, anche se sono in cassa integrazione e sono figlia di un pilota, di un comandante dell'ATI, mio padre era comandante, si chiamava Lamberto Lainè. A parte qualche immagine che ho da bambina che giocavo con gli aeroplani, io non ho mai pensato di fare il pilota da ragazzina, assolutamente no. Allora io mi vedevo attrice o suora, queste erano le due quando ero proprio bambina, i miei due target, i miei due obiettivi erano quelli, o lavorare dentro a un teatro oppure dentro a una scuola di suore, a un convento dove ho fatto le scuole medie e invece poi crescendo avevo deciso di fare l'operatrice turistica, anzi proprio il tour operator. La mia idea era quella di studiare lingue e poi lavorare proprio nel campo del turismo, progettare, organizzare i viaggi, eccetera, eccetera. Io sono cresciuta con tutti gli amici che mi dicevano, tuo papà fa il pilota, parte, torna, ma non lo vedi mai? E io questa cosa che non lo vedevo mai, non l'ho mai capita, perché in realtà mio padre lo vedevo, nel senso che mio padre era, come dicevo, era a Lati, l'aerotrasporti italiani e i suoi avvicendamenti, cioè i suoi turni di lavoro, di solito erano in giornata, cioè lui magari andava via la mattina e tornava la sera o il pomeriggio, oppure partiva per due o tre giorni, ma poi ne stava altrettanti a casa. Perciò io sono cresciuta con questo modo di vivere il genitore e la famiglia, che per me era assolutamente normale. Spesso lui andava al lavoro e ci salutava al volo, usciva con la 24 ore magari, o la pilotina, ecco, però per me non c'era niente di strano, questa era la nostra normalità, insomma, non c'era un non lo vedevi mai, oppure mi dicevo non hai paura? Io no, non avevo paura, perché non ho sempre sostenuto, lo sostengo tuttora, che fare il pilota non sia un mestiere pericoloso. Poi vabbè, purtroppo mi è capitato quello che non pensavo mai che capitasse a nessuno, cioè papà va al lavoro e non torna, però non ho mai pensato che fare il pilota fosse un mestiere pericoloso. Poi praticamente mio papà era il comandante dell'ATR 42 ed era il comandante dell'ATR che è precipitato a Conca di Crezzo il 15 ottobre dell'87. L'ATR è fatto ghiaccio e praticamente l'impianto antighiaccio non era sicuramente adeguato, l'aereo era a pieno carico e praticamente ha stallato. È caduto a Conca di Crezzo lì nella provincia di Barni su quella montagna e niente, dopodiché ci sono stati tante cose. Adesso sono passati 33 anni e io quello che mi ricordo è ancora tutte le varie indagini, la colpa, i manuali, i piloti. Di sicuro l'aeroplano è stato... Io guardo ho avuto la fortuna di avere questo comandante che era un amico di mio papà, che adesso non c'è più neanche lui, Stefano Rusconi, che mi ha dato una grossa mano perché lui mi fece vedere la scatola nera e mi spiegò tutto, mi spiegò ogni cosa del volo. Io sentì la voce di mio padre che parlava, parlava con il copilota, con l'assistente di volo, ho sentito tutto fino alla fine. E lui, che era anche un ingegnere, oltre che essere un comandante, mi ha spiegato tutto perché non voleva che io mi facessi influenzare da chi che sia, neanche da vari processi che ci furono, dove fu riconosciuta una concausa, un concorso di colpa da parte dei piloti. In realtà, che ti devo dire, cioè dal punto di vista ufficiale, diciamo il patteggiamento è stato questo. Dal punto di vista, quello che io so e quello che sappiamo tutti, che la colpa non è stata assolutamente dei piloti che hanno fatto assolutamente tutto quello che potevano fare. A base alle loro possibilità, all'aereo e ai manuali a loro disposizione. dopodiché hanno, infatti dopo questo incidente sono stati cambiati sia, è stato sia implementato l'impianto altighiaccio modificato e di sicuro l'aereo impiegato in altre tratte e anche i manuali sono stati aggiornati. Quando è successo di mio papà è cambiato tutto, è cambiata tutta la vita ovviamente, proprio da dentro casa a tutto quello che erano i progetti, è stato tutto da rifare chiaramente. E tra le cose mi sono trovata dopo un anno dalla morte di mio papà, mi sono trovata a entrare in Alitalia come assistente di volo. E ci sono rimasta per dieci anni, anche se ero sicura che nella vita non avrei mai fatto l'assistente di volo, l'ho fatto per nove anni e otto mesi per la settezza. E mi sono anche divertita, è stato anche tutto sommato un bel periodo. All'inizio è stato un po' dura. Io ero molto piccola, avevo 18 anni, tutti i miei colleghi erano comunque tutti un po' più grandi, un po' più maturi di me. Io non avevo neanche il libretto del lavoro quando andai a fare la selezione. Io sono entrata in Alitalia, io mi ricordo benissimo i colleghi amici di papà che in quel periodo ci stettero tutti molto vicino, soprattutto insomma il gruppo dei più affezionati, cercando di darci consigli, perciò io avevo l'opportunità di entrare in Alitalia o in Ati. Ma entrare in Ati sarebbe stato aver avuto, aver ogni giorno sul lavoro contatto con chi ti chiedeva, ma tu sei la figlia di Lamberto, ma tu come stai, come sta mamma? Che era una cosa che comunque ho vissuto e per carità era un indice di interesse da parte di tutti per noi, moltissima solidarietà, molto affetto, veramente io ho volato con amici di mio padre che si sono commossi incontrandomi, però non me la sentivo, cioè per me i primi tempi è stato terribile, cioè io partivo per un avvicendamento e il carico per me era importante. Pensavo che in Alitalia ce ne sarebbe stato meno, probabilmente è stato così, nel senso che magari era un po' meno conosciuto, c'era meno confidenza, però io sono stata sempre molto legata all'ambiente dell'Ati, ma in quel momento non me la son sentita e mi hanno anche sconsigliato insomma di entrare così a contatto con tutto questo affetto insomma. Dopodiché ho iniziato a volare in Aeroclub, ho preso il brevetto da pilota privato che c'era, parliamo del lontano 1992 e ho preso il brevetto da privato, però non avevo nessuna intenzione di fare il pilota professionista, io volevo andare in giro, volevo divertirmi insomma, fermarmi lì, poi invece non so come ma andando avanti mi sono trovata, mi sono trovata poi a continuare a investire dei soldi, tempo e soldi e perciò a voler fare il pilota di professione. Quando poi ecco non sono riuscita a entrare in Alitalia, ho fatto la selezione in Eurofly e un amico, un comandante che mi ha dato un grosso aiuto, io adesso evito di fare i nomi di tutte le persone perché sicuramente ne salterei qualcuna, però Pino mi ha dato una grossa mano, mi ha fatto da istruttore a Viterbo, mi ha fatto un sacco di ore di lezione, è stato veramente un grosso aiuto e lui mi ha detto guarda stanno selezionando in Eurofly, Eurofly stanno selezionando personale senza abilitazione sul DC9 e poi io andai a fare questa selezione e anche lì trovai, fu un periodo bellissimo perché iniziai a volare e trovai tutti i colleghi di mio papà pensionati dell'ATI o quasi pensionati dell'ATI che erano andati a lavorare in Eurofly e mi ritrovai da fare i primi due anni con queste persone stupende, anni veramente belli, importanti sia dal punto di vista professionale, addestrativo e anche umano veramente ho trovato, io sono stata molto fortunata da questo punto di vista perché mio papà mi ha già lasciato un'eredità enorme, l'ho detto tante volte ma a distanza di 30 anni, più di 30 anni io posso dire che ancora ho continue dimostrazioni d'affetto di persone che si ricordano di mio papà, di mia mamma eccetera eccetera. Quando ero bambina io secondo me i piloti facevano un tipo di vita che era veramente una bella vita nel senso che mio padre aveva veramente molti giorni di riposo, mi ricordo a casa o comunque quando lui lavorava non vedevo dello stress nel suo modo di lavorare, lui poi era tifoso della Lazio, quasi sfegatato di conseguenza io sono uscita romanista per spirito di contraddizione e praticamente lui perciò cercava di fare cambio turni con i colleghi per andare allo stadio a vedere la Lazio, assolutamente la domenica era la Lazio e noi queste cose secondo me non le abbiamo vissute, poi ci sono tante cose che sono cambiate da quando erano chiaramente il pilota era più un lavoro d'elite, veniva visto anche in maniera molto, il pilota veniva preso in considerazione in maniera diversa secondo me da come adesso, forse prima era troppo, forse adesso è poco perché comunque è un lavoro è un lavoro molto faticoso dal punto di vista di stress, di ore di sonno perse, di tipo di stanchezza proprio io mi ricordo che quando ho compiuto 16 anni mio papà ci regalò a me e mia mamma perché il mio compiano era aprile il 12 quello di mia mamma il 21, allora mio papà ci regalò un viaggio in Brasile e quando partimmo con mia mamma su questo Boeing 747, io già partendo la sera tardi, già ero distrutta dal sonno, io dopo il tramonto comincio ad accusare i primi, a tirar fuori i primi sbadigli e perciò sull'aereo mi ricordo che vedevo le assistenti di volo che erano sempre perfettamente truccate e pettinate anche dopo sei ore di volo e arrivando a destinazione vedevo i piloti impeccabili scendere tutti, ho detto io mi ricordo che dissi proprio a mia madre io non potrei fare mai questo lavoro e mia madre mi disse quale pilota o assistente di volo e ho detto nessuno dei due, per me è improponibile dieci anni di assistente di volo e dopo ho cominciato a fare il pilota, perciò tutte le cose che ho detto mai io le ho fatte proprio, le ho messe tutte in fila ma prima o poi le ho fatte tutte e queste sono state le prime forse ecco io mai l'assistente di volo e mai il pilota, ho fatto tutte e due, però era una cosa per me tuttora diciamo anche adesso quando vado al lavoro e quando andavo al lavoro i voli notturni sono quelli più spaventosi per me perché preferisco svegliarmi la mattina presto, soffro di meno, mi alzo la mattina, vado a dormire prima, non è un problema e invece stare a svegliare la notte è un po' più faticoso io non ho trovato ostilità o mi è capitato forse proprio all'inizio qualche comandante vecchio, diciamo vecchio stampo vecchio a scuola con qualche, con un filo di diciamo di pregiudizio nei confronti di una donna che fa questo lavoro in realtà forse ecco è una cosa che appartiene più al passato, oramai ci si è abbastanza abituati secondo me dal punto di vista di selezioni gioca ad armi pari la difficoltà secondo me si ha durante il lavoro stesso, nel senso che oggi pensare di trovare un posto di lavoro da pilota vicino casa e avere la stabilità che si pensava che aveva mio padre o che hanno avuto i piloti fino forse a 15-20 anni fa io stessa ho pendolato per 20 anni perché io avevo la base di lavoro a Milano pensavo che non avrei mai pendolato invece poi avevo conosciuto quello che poi è diventato mio marito dopo tre mesi che ho iniziato a lavorare in Eurofly e ho pendolato con Alghero per quattro anni poi lui siamo trasferiti a Roma e io da Milano ho pendolato con Roma e adesso se penso che Milano potrebbe essere il posto di lavoro più comodo che potrei trovare perché se vuoi fare il pilota oggi devi essere pronto a prendere e chiudere le valigie e partire andare a lavorare magari sei mesi da una parte e un anno dall'altra e comunque turni, tutto quello che è la turnazione e gli avvicendamenti non sono proprio comodi per un'eventuale famiglia, per una stabilità è diverso se hai vent'anni, venticinque anni, io li ho passati da un sacco di tempo i venticinque anni e perciò con figli e famiglia adesso come adesso è abbastanza complicato non so neanche se devi essere molto molto fortunata per lavorare vicino casa per iniziare oggi e farti una famiglia vicino al lavoro allora io ho iniziato con il 1951 ed è stato il primo amore poi l'MD80 molto simile, aveva solo qualche automatismo in più insomma un po' più lungo, non era proprio lo stesso aereo però era abbastanza simile e mi è piaciuto molto in realtà mi è piaciuto anche l'Airbus 320, completamente un altro aereo un'altra filosofia, l'Airbus all'inizio rimane un po' stile, poi invece mi sono trovata molto bene anche sul 320 poi ovviamente anche il 319 che era la stessa famiglia, diciamo l'abilitazione era la stessa e poi per un periodo sono stata sul 737 il 737 è un bellissimo aereo, divertente però diciamo in realtà rispetto agli altri ho solo 500 ore di volo sul 737 perciò non ci ho preso troppa confidenza gli ultimi due anni e mezzo di lavoro sull'Airbus 330 finalmente il lungoraggio è arrivato, avevo fatto solo come assistente di volo ma da pilota per vari motivi personali di famiglia ho sempre chiesto di non lavorare sul lungoraggio per stare più a casa e invece finalmente nel febbraio, nel marzo del 2018 ho iniziato la transizione sull'Airbus 330 in Alitalia ho fatto il corso e ho volato per più di due anni insomma ho conosciuto questa parte dal punto di vista professionale questo tipo di attività che mi era sconosciuto per me il migliore, il più bello, il più performante il 330 mi è piaciuto moltissimo mi piace e mi manca tanto ho ancora il poster con il layout della gabbina di pilotaggio vicino al comodino perciò quello è proprio l'aereo sul quale spero di rivolare prima o poi perciò di rivolare prima o poi perciò di rivolare prima o poi perciò di rivolare prima o poi